Buongiorno da Speritas Oggi siamo in Sila con lo sfondo dello splendido Lago Arvo che vedete alle nostre spalle e dall'altra parte la sede dell'ente Parco Nazionale della Sila a Lorica Questo luogo è molto importante per la Calabria perché custodisce al suo interno parecchie testimonianze sia naturalistiche sia storiche, archeologiche e culturali L'ente Parco Nazionale vi ospiterà con gioia in questi luoghi e vi cercherà di avviare a quella che è la bellezza resa natura No! No!